Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale e benvenute a tutte le nuove iscritte. Un bacio grande a tutte le mie fedelissime. Allora, rubrica del mese l'avete letto dal titolo. Top 5, in collaborazione con Anna, con il canale di Lady Nice e Stai di Anna. Linko qui sotto il link gemello al mio. Allora, per chi non avede il video per la prima volta, io e Anna scegliamo 5 prodotti che abbiamo acquistato di Aliexpress e facciamo una recensione, gli diamo una valutazione da 1 stella la peggiore e 5 stelle la migliore. Premetto che non metto i link dei prodotti che vi faccio vedere, basta che andate a vedere nei video acquisti e li trovate lì. Oppure fate lo screenshot e potete trovarlo tramite l'applicazione di Aliexpress. Se sentite sto casino, è perché sta andando la lavatrice. Allora, detto questo, non mi sembra di ricordare nient'altro, scusatemi il pampino un po'. Le mani, le mani sono un disastro perché ho finito le due di stanotte di impacchettare le scatole, ricontrollare e stamattina preparare tutte le lettere di vettura per l'ultimo cumulativo, per cui dopo magari tra lunedì e martedì, forse martedì, riuscirò a fare qualcosa. Sono fatte così perché ho fatto un video che poi caricherò su, non ho ancora avuto tempo neanche di caricarlo. Allora, basta, non mi sembra di aver detto tutto. Partiamo, che dite? Partiamo? Allora, partiamo. Ah, un attimo, un attimo. Allora, se vi è piaciuto, se vi piace questo genere di video, cliccate il pollice in su, così aiutate a crescere il canale. Se non vi siete ancora iscritte, vi invito a farlo, lì, e attivate la campanellina per ricevere le notifiche relative ai nuovi video. Detto questo, basta, non parlo più, parto. Parto con questo, cioè il primo. Primo una stella. Purtroppo, quando faccio le cose, le faccio sempre bene. Allora, di questi ne ho presi 100, non uno, 100. Sono quattro sacchetti di quattro colori diversi, sono elastici per capelli. Visti così, sembra belli, ovvio. Il problema dove sta? Che poi ve lo faccio vedere. Allora, c'è esempio anche quello giallo, che a me piace tantissimo. Visti così, sembrano belli, fatti bene, belli duri, belli duri. Quando li utilizzi al massimo due volte, questo da così diventa così, cioè si allunga così, diventa largo così. E per fare una coda, per chi come me ha pochi capelli, devi girarlo quattro volte. Per cui è uno sprecare, perché man mano che si allargano, poi io li sbatto via, perché devi continuare a fare il giro, il giro, il giro, il giro. E non sono belli, sono belli al momento, poi dopo un po' che li usi, questi si allargano, proprio diventano così. Mi dispiace tantissimo. Finirò di usarli, li ho già ordinati degli altri, devo vedere quando arrivano come sono, sperando che siano meglio di questi. A questo una stella, assolutamente. Allora, due stelle, gli le do a questi. Allora, questi sembrano belli, sembrano tipo gommato, bello, morbido, tutto quello che volete. Il problema dove sta? Questo gli do a due stelle. Il problema sta che è enorme. Dalle foto, quando io l'ho preso, dalle foto era molto piccolo, oltretutto è durissimo. Cioè io se mi metto una cosa del genere, mi rovino la testa, perché non ho così tanti capelli per tenere su una cosa del genere. Cioè è bellissimo, bello, ma una deve avere veramente miliardi di capelli, ma proprio per tenere su una cosa. Io pensavo che era veramente piccolino, sapete quelli piccolini, cioè una roba massimo grande così. Invece questo, cioè se mettete in confronto a un elastico, capite che è enorme, veramente enorme. Questo gli do a due stelle, mi dispiace perché non gli ho ancora usati uno. Magari li regalerò via perché non mi piace sbatterli via. Poi, tre stelle, tre, giù si tre, tre stelle, tre stelle glielo do a questo. Allora, questo è veramente ottimo. Allora, questo è un contorno occhi della Bioacqua, un'ottima marca. E al mertillo. Allora, questo promette di togliere le occhiaie, cioè di togliere le occhiaie, soprattutto come le mie che sono veramente viola, uguale a questo colore, non glitterato. Sono molto evidenti, molto marcate, sia sotto che sopra. E questo prometteva di toglierle perlomeno, no, di stenderle, eccetera. E non lo fa, assolutamente non lo fa. Quello, cosa fa questo? Questo è quasi finito, per cui lo posso fare una bella recensione. È morbidissimo. Cioè, questo quando lo metto la mattina, mi sveglia, mi nutre sotto gli occhi. Io lo metto sotto gli occhi e sopra. Ed è veramente cremoso, corposo. Cioè, è una coccola per gli occhi che è nera, veramente meravigliosa. Vediamo se riesco a farvelo vedere un pochino. Io ne metto sempre un po' più di questo. Ed è, vedete che è... Lascia veramente la pelle morbidissima, veramente morbida. È come belluto, cioè è veramente fantastico. Per... In questo senso è veramente fantastico. Proprio le senti morbide, le senti... Come posso dire... C'è differenza tra questo qui, che è proprio fatto apposta per i contornocchi, e la crema viso. Cioè, questo io li metto tutti e due, veramente ottimo. Questo veramente, in quel senso ottimo, però non fa... Non toglie gli occhiai, purtroppo. Però, almeno senti una bella sensazione quando la metti su. E questo è tre stelle. Allora, quattro stelle glielo do a questi. Io questi... Voi non li avete ancora visti perché non ho ancora caricato il video di questi. Questi sono orecchini. Allora, uno è sparito perché mi è caduto giù dal lavandino. Allora, io questi li ho tenuti sulla bellezza di più di un mese. Mai tolti doccia, profumi, shampoo. Di tutto e di più, mai tolti. Allora, sono... Come li ho comprati? Aspettate... Ups! Aspettate solo un secondo. Allora, ecco. Volevo farvi vedere proprio questi perché... Adesso vi faccio vedere la... Questa è una serie di... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12... 6 paia. 6 paia, 6 paia di queste le cliniche. Adesso ve li faccio vedere. Ma questi sono esattamente integri. Cioè, non gli è successo niente il mio orecchio. Io sono allergica al nichel. Premetto. E questi sono rimasti uguali. Non... Che brutte unghie, madonna! Non... Non gli è... Non si è scolorito. Non ha lasciato il verde. Per cui questo negozio... Questo venditore... Io ve lo consiglio con tutto il cuore proprio. Vedete? Che non ha niente. Adesso vi faccio vedere... Quali sono la confezione che ho preso. E questa qua. Vi faccio vedere come sono questi qua nuovi. Non li ho ancora messi. Per farvi vedere la differenza. Cioè, che non sono assolutamente cambiati. Vedete? Sono questi colori qua tutti un po' aurora boreale. Mettiamola così. Questi tirano un po' sul verde. E se vedete... Metti a fuoco... Grazie. Vedete? Sono esattamente uguali. Che non si è scolorito. Non ha cambiato colore. È rimasto verde. Ve li faccio vedere dal di dietro. Aspettate anche questo per farvi vedere. Aspetta, eh? Un attimo che vuol farvi vedere questo. Vedete? È perfettamente uguale. Per cui... Io adesso l'ho tolto, vabbè, per cambiare. Perché avendone... Questi qui ovviamente non lo sbatto via. Cambio un po'. Magari li metto su questi o bianco. Ne avrò a lavoro reale. E comunque ottimo. Veramente ottimo. Perché non... Non ha fatto nulla. Perché ha provato a mettere su degli orecchini. Ha lasciato il verde. Come mi è stato chiesto. Questi invece no. Hanno tutti la loro vite. Gli metti di su. Giù. Se no. Ecco. Non li perdiamo. E sono veramente belli. Ne ho presi altri, eh? Di confezioni. Che poi quando caricherò il video lo vedrete. E questo, devo dire, è veramente... Ottimo, ottimo, ottimo. Veramente ottimo. Quello gli do quattro stelle. Non mi ricordo se l'ho detto. Allora, cinque stelle io le do a questi. Li ho provati ieri. Proprio perché volevo fare la recensione. Questi sono i sandic a zebra. A 2, qua, 240 grit. Sandic, scovolino. Come vogliate chiamarlo. Io l'ho sempre chiamato Sandy. Ottimo. Perché? Allora, è importante avere, per me, trovare un altro posto dove acquistare i sandic. Perché purtroppo la Wilson, una mia amica, una ragazza che fa anche lei cumulativi, ha fatto l'ordine per altre ragazze. E purtroppo gli è arrivato da pagare la dogana a ben 63 euro. Ed erano solo in cinque. Cioè, non... Mi è venuto un colpo quando l'ho letto. E adesso ho un po' paura, sinceramente, a fare l'ordine. Dalla Wilson che sapete bene che la Wilson sono questi... Adesso vi faccio vedere... Questi sono quelli della Wilson che sono ottimi, eh. La M, io prendo la M, sono così. Non si consumano mai. Cioè, anche quando lo utilizzi è sempre uguale. E purtroppo ho paura. Ho sinceramente tanta paura. Per cui cercavo proprio sul sito di Aliexpress un posto dove ci sono dei sandic buoni, insomma. Perché io avevo già provato quelli di Allepads, che sono questi qua. Adesso vi faccio vedere la differenza, un attimo. Allora, questo è della Wilson e questo è di Allepads. Guardate solo la differenza. Vedete? Sto premendo nello stesso modo, eh. Ecco. Cioè, questi proprio sono cartone sottilissimi, ma non li vanno niente. Questi sono bei tosti. E questo qua è uguale. Allora, questa è una confezione da 100 pezzi. E ciao, eh. Aspetta, andate un attimo. Sono una confezione da 100 pezzi dentro. Ci trovate anche questo che volevo farvelo vedere, perché ancora qua non ho ancora utilizzato. Il mandrillo, mi sembra che si chiama così. Questo qua. Perché tante volte cade, si storta, eccetera. Perché questo è universale. E adesso vi faccio vedere quello che ho utilizzato ieri dalla cliente. E praticamente è intatto. Intatto. Adesso ve lo faccio vedere un altro nuovo. No, buono di non cadere. Così vi fate un'idea di... Allora, con questo io ho opacizzato tutte le unghie. E ho sistemato la struttura dopo averla limata. Perché quando io faccio la bombatura, poi la limo con la punta. E poi, per togliere tutte le limature, eccetera, di passo ancora questa. Per cui è stata usata due volte. E potete ben vedere che praticamente è rimasta intatta. Vedete? Certo, si è consumata un po', però voglio dire, dopo averla usata almeno due volte, e questo è quello che deve fare. Una punta. Una punta, c'è un, scusate, un sanding. Il sanding deve assolutamente durare. Deve essere ottimo, opacizzare, senza rovinare. E questo ve lo consiglio. Questo gli do proprio 5 stelle, perché questo ve lo consiglio tantissimo. Questo ho fatto la recensione. Questo ho fatto vedere. Se lo cercate nei miei video acquisti, questi li trovate. E ve lo consiglio, assolutamente. Questo gli do 5 stelle. Ottimo, davvero. Allora, questo ho già finito io, perché... Vabbè, sono cose molto veloci da recensire. Là, ve li faccio vedere tutti. Facciamo vedere quelli più belli e quelli più brutti. Lasciamo lì dietro, perché non ce ne fa regarla. Eccoci qua, così. Ecco, questi sono i miei acquisti. Cioè, scusate, la mia recensione dei miei acquisti. Vi ricordo che metto sotto il video giamello al mio di Anna. E spero di... Ci rivediamo presto a un altro video. Un bacio grande, ragazze. Grazie di avermi seguito e visto fino qui. Vi adoro tutte. E grazie a chi mi segue, chi mi scrive. Con tutto il cuore è sempre bello leggere i vostri commenti. Un bacione grande. Ciao a tutte, ragazze. Vi adoro. Anna. Ciao, tesoro.